Ciao ragazzi, buona settimana! Il gioco che oggi vi propongo vi farà certamente divertire. Si tratta di un mimo. Ne avete mai sentito parlare? Per iniziare, trovate un amico o qualche persona della vostra famiglia da coinvolgere in questo gioco. Ad esempio, guardate un po'. Questo è il mimo del titolo di un film. Per un pugno di dollari, vedete? I gesti a volte testimoniano più di tante parole. Ora provate a fare anche voi la stessa cosa con la persona che vi siete scelti. Decidete nella vostra mente il titolo di qualche film e provate a mimarlo con l'altro. Buon divertimento!